Non siamo all'emergenza rifiuti per i comuni del sud-est barese ma la situazione va monitorata da vicino. L'assessore regionale dell'ambiente Lorenzo Nicastro ha incontrato i 21 sindaci dei comuni dell'Ato Bari 5 e lunedì prossimo partirà il tavolo tecnico con sindaci provincia di Bari e regione proprio per seguire da vicino gli sviluppi della situazione creatasi all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato depositata l'8 giugno scorso. Una sentenza che ha dato ragione all'Associazione Temporale di Imprese Colari, consorzio laziale rifiuti che in primo grado aveva avuto torto dinanzi al TAR. A questo punto l'ACOGEAM, ATI di cui fa parte la Lombardia Ecologia e che già gestisce l'impianto di biostabilizzazione di Conversano non ha alcuna legittimità a farlo mentre l'ACOGEAM è legittimata a realizzare il suo progetto che fra l'altro prevede un processo inverso a quello utilizzato dall'ACOGEAM che prima stabilizza e poi separa. La regione ha già scritto alla Colari per capire cosa intende fare, se gestire l'impianto esistente, realizzarne uno nuovo o disinteressarsi del tutto della questione. Lunedì la regione solleciterà nuovamente il consorzio laziale per conoscere al più presto i suoi intendimenti. Intanto i comuni del bacino Bari 5 potranno continuare al massimo per sei mesi a conferire i rifiuti nella discarica gestita dell'ACOGEAM così come imposto dal commissario delegato Nichi Vendola. Il nostro dovere è quello di trovare una via virtuosa che ci consente di rispettare la sentenza del Consiglio di Stato senza andare in emergenza e garantendo continuità nel servizio. Quanto al rigassificatore di Brindisi la posizione dell'assessore è molto ferma? Abbiamo detto no per tre ore in corteo con i brindisini, figuratevi se non posso che confermarlo. Nonostante l'ok di Bondi? Nonostante l'ok che come provvedimento potrà e dovrà arrivare noi li impugneremo tutti e li impugneremo in tutte le sedi giurisdizionali e per tutti i gradi di giudizio che ci saranno consentiti.